E mi striccio ancora, non ho più rumore, ma ti quasi sempre è normale. Non l'amo più, ma perché non vuoi salmare anche tu? È colpa tua, se una storia va via dall'anima mia. Dagli studi discografici di Lello Fiore, la DCA Record di Foggia presenta il nuovo lavoro discografico di Tony Capone, dove trovarlo ma naturalmente presso tutti i punti vendita.